Di M25 arriva anche in Abruzzo. Sabato 24 marzo infatti ci sarà all'Aquila la prima assemblea regionale del Movimento per la Democrazia in Europa, l'iniziativa continentale di Yanis Varoufakis. L'incontro che sarà pubblico si svolgerà nella sala convegni del Canadian Hotel alle ore 17. Ci sarà la partecipazione degli iscritti e dei simpatizzanti provenienti da tutta la regione ma anche la presenza dei membri del collettivo nazionale. Due settimane fa infatti a Napoli c'è stato il primo incontro tra i membri fondatori della prima lista transnazionale di M25. All'iniziativa hanno già aderito sette paesi in Europa l'Italia, la Danimarca, la Francia, il Portogallo, la Polonia, la Romania, la Germania, la Slovenia e la Croazia. Il primo obiettivo di questa nuova forma politica sono le europee del 2019 con un programma fondato su due basi, un new deal ecologico paneuropeo ed un processo per arrivare ad un'assemblea costituente dei popoli europei.